È stata una partita a tratto difficile, a tratti sotto controllo e potevamo forse stare più attenti a certi particolari sia a livello difensivo sia a livello offensivo e in questo campionato funziona così, chi fa meno errori vince e oggi ne abbiamo commessi magari uno di troppo e se vogliamo dire la nostra dobbiamo rimboccarci le maniche e dare tutto perché nessuna partita è scontata, soprattutto quando si tratta di un derby. Ringrazio il mister per la fiducia in queste partite, siamo tutte giocatrici valide che si meritano di giocare dal primo minuto e con chiunque sia a fianco si ha la tranquillità, la serenità e la fiducia massima della compagna e tutte siamo qua a disposizione del mister e a dare sempre tutto sia in allenamento che in partita. Ogni esperienza che ho fatto sia alla Fiorentina che in Serie B nelle altre squadre dove ho giocato mi hanno dato tanto, mi ha fatto crescere su diversi punti di vista. Credo che in questa categoria l'esperienza sì, fa tanto, ma non è tutto quindi non ci aggrappiamo a questo. dobbiamo forse dare qualcosina in più per farci sentire, un pochino più di furbizia ma soprattutto ai cattiveri. È un ambiente in cui mi trovo davvero bene, soprattutto con le compagnie, sono tutte persone per bene, tranquille, che si mettono a disposizione e ringrazio di avermi accolto in questo modo. Il fatto che siamo una squadra giovane deve essere un motivo ancora di più per spingere sempre sull'acceleratore per 90 minuti. Domenica saremo contro la Lazio, è una squadra forte che rispettiamo ma penso che a questo punto non sia una questione di chi abbiamo di fronte ma dobbiamo lavorare e organizzarci per arrivare al nostro obiettivo che ogni domenica sono i tre punti, indipendentemente di chi abbiamo di fronte.